Musica Musica Abbiamo scoperto all'interno dell'ospedale armi, materiali di intelligenza ed equipaggiamento militare. Posso già dirvi che abbiamo trovato uniformi di membri di Hamas gettati a terra per consentire loro di fuggire travestiti da civili. Non abbiamo carburante per far funzionare l'ospedale, i bambini appena nati non hanno incubatrici, alcuni sono già morti, non possiamo spostarli fuori. È troppo pericoloso, la nostra preoccupazione è per i pazienti di un ospedale che non funziona. Israele sta letteralmente portando avanti il terrorismo di Stato con brutalità. Bombarda deliberatamente i civili sulla strada dopo averli costretti a lasciare le loro case. E io ora dico apertamente che Israele è uno Stato terrorista. Erdogan ha bombardato a lui stesso villaggi turchi all'interno della stessa Turchia, quindi non accettiamo nessuna predica da lui. Noi stiamo dalla parte di quelli che difendono la giustizia e la verità. Ho ribadito l'importanza della pace e della stabilità per lo stretto di Taiwan. È chiaro che ci opponiamo a Pechino, ci opponiamo alle pratiche economiche non di mercato che svantaggiano le imprese e i lavoratori americani. La Cina non scommette mai contro gli Stati Uniti, non interferisce mai con i suoi affari interni, non ha alcuna intenzione di sfidare o di sostituire gli Stati Uniti. Siamo invece lieti di vedere Stati Uniti fiduciosi, aperti e prosperi. Allo stesso modo, gli Stati Uniti non dovrebbero scommettere contro la Cina o interferire negli affari interni della Cina. Dovrebbero invece accogliere con favore una Cina pacifica, stabile e prospera. Buongiorno, buongiorno cari telespettatori. Allora, nella copertina di Camilla Moreno, avete visto intanto le truppe israeliane, hanno fatto saltare in aria il Parlamento di Gaza City, dove qualche giorno fa i soldati si erano fatti ritrarre. C'è poi l'operazione nell'ospedale di Al-Shifa, che è il più grande della striscia di Gaza, dove l'esercito israeliano ha fatto sapere che sono state rinvenute molte armi di Hamas Tel Aviv, che ha ordinato anche l'evacuazione del sud della striscia. Diciamo, queste sono le operazioni, come si direbbe, sul campo. Poi c'è tutta la parte diplomatica, intanto il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Ieri è stata approvata una bozza di risoluzione che chiede delle pause umanitarie urgenti, estese per permettere l'arrivo a Gaza di aiuti umanitari. Sul fronte degli ostaggi c'è, almeno ad oggi, una fumata nera. Sapete, si parlava insistentemente del rilascio di una cinquantina di civili. Ebbene, c'è una trattativa che si è arenata, trattativa ovviamente anche con Hamas, mediata da Egitto e Qatar. Poi abbiamo visto le immagini, in qualche modo storiche, di questo incontro tra Biden e Xi Jinping a San Francisco. Qualcuno oggi dice che è cominciato una sorta di disgelo. Hanno detto i due leader, c'è posto per tutti nel mondo. Disgelo soprattutto su questioni che riguardano il clima, i cambiamenti climatici, l'intelligenza artificiale. Poi c'è una questione che interessa moltissimo l'America, che è quella del fentanyl, che è una droga sintetica, un oppiaceo che sta invadendo il mercato americano, arriva attraverso il Messico e che è prodotto sintetizzato in gran parte proprio in Cina. Resta lo scoglio di Taiwan, che come sapete a gennaio va ad elezioni e questo è un motivo delicatissimo ancora di grandi distanze tra Cina e Stati Uniti. Poi c'è tutta la parte italiana. In Italia, come sapete, c'è ancora uno scontro al calor bianco tra i sindacati e il governo per lo sciopero generale di domani contro la manovra. CGL e Will hanno detto che il governo ha fatto squadrismo istituzionale, parlando della precettazione firmata da Salvini, che ha ridotto la protesta da 8 a 4 ore. Poi ieri è intervenuto anche Giorgia Meloni. C'erano state delle voci di dissenso tra Meloni e Salvini. Meloni ha detto che la scelta della precettazione condivisa ha però stoppato una fuga in avanti, vogliamo chiamarla così, di Salvini. In che senso? Meloni ha detto che non è assolutamente all'esame del governo, allo studio, nessuna norma che cambi il diritto allo sciopero. Allora, abbiamo molto di cui parlare. Parleremo anche di libri e parleremo di un autore molto amato da Giorgia Meloni che è Tolkien. Saluto Giovanni Floris. Bentornato Giovanni. Buongiorno a te e buongiorno a tutti. Giornalista, conduttore di Di Martedì. Con noi qui in studio c'è Chiara Geloni. Ciao Chiara. Buongiorno. Saluto Claudia Conte, giornalista e scrittrice. Ciao Claudia. Buongiorno, buongiorno a tutti. E per la maggioranza è con noi l'onorevole Raffaele Nevi che vice capogruppo di Forza Italia alla Camera. Buongiorno. Giovanni, volevo partire da te per chiederti intanto vuoi partire dalla situazione in Israele o dall'incontro tra Biden e Xi Jinping? Perché ovviamente hanno parlato delle grandi questioni che dividono questi due colossi ma hanno parlato molto sia del Medio Oriente che della guerra in Ucraina. Potremmo sperare che le due cose siano lo stesso discorso. Cioè quello che mi sembra si stia comprendendo piano piano è che dalla vicenda di Gaza forse si esce solo se si muovono i più grandi. Cioè se si riesce a prendere in mano questo scontro che ormai mi sembra abbia perso ogni logica nessuno ha mai messo in dubbio neanche il diritto e il dovere di Israele di colpire duramente il più duramente possibile Hamas. Però io temo che questa carneficina di Gaza alla fine arrivi a cambiare l'immagine che Israele ha nel mondo. arrivi a trasformare l'immagine di una nazione ferita addolorata da un'azione terrificante, orrenda ma che con questa risposta sta cambiando l'immagine di sé nel mondo. Questo temo che si ha anche l'effetto del fatto che è guidata da una persona che non ha alcun futuro politico. Scusa Giovanni, tu dici che rischia l'isolamento in qualche modo? Non è tanto l'isolamento, io parlo proprio di una trasformazione. Ecco, arriveremo all'aspetto culturale di tutto quello che stiamo dicendo nella tua scaletta, arriveremo a toccare degli idealtipi immaginari della cultura. Israele è amata nel mondo. Cioè noi se fossimo in Medio Oriente saremmo israeliani. nessuno ha dubbio del fatto che Hamas sia una mostruosa organizzazione terroristica. Questa risposta però sta dando l'immagine dolorosa di Israele e nel tempo cambierà questa immagine. Israele deve cercare di imporre i valori occidentali nel senso dell'apertura, della soluzione dei problemi, non dello scontro. Allora io temo che non sia una risposta, vogliamo metterla su un piano esclusivamente razionale, la risposta di Netanyahu non è una risposta conveniente per Israele. Perché i tempi non finiscono adesso, i tempi sono di medio-lungo periodo e anche spianare Gaza potrebbe non risolvere ma aggravare il tema della sicurezza. Della sicurezza, certo. Allora c'è la speranza, perdonami concludo, c'è la speranza che il dialogo tra Stati Uniti e Cina possa essere un modello, possa essere una matrice. Come dicevi tu, è escluso che non si sia trattato anche della crisi medio-orientale. Allora c'è la speranza che dall'alto le cose si vedano in maniera più logica, lucida, razionale. E peraltro tutto questo inciderà molto e come sul futuro assetto, diciamo, generale dei territori palestinesi e della convivenza tra appunto israeliani e palestinesi. Allora andiamo in pubblicità, ripartiamo subito, peraltro vorrei inserire anche un elemento di politica italiana in questo contesto perché ieri se le sono date di santa ragione in Parlamento l'ex Premier Conte e l'attuale Vice Premier Ministro dell'Esteri Tagliani. Dello scorso 27 ottobre in sede di Nazioni Unite vi siete pilatescamente astenuti di fronte a una risoluzione che sosteneva una semplice tregua umanitaria per soccorrere feriti, per portare aiuti. Un atteggiamento codardo questo. Siamo dichiarati a favore di pause umanitari fin dalla prima riunione del Consiglio Affari Esteri che si è svolta a Lussemburgo. Quindi chi non segue i dibattiti poi non può dire che noi non svolgiamo l'azione e i codardi non stanno certamente sui banchi di questo governo. Forse i codardi stanno da qualche altra parte. Onorevole Conte, qui non c'è nessun codardo e la prego di utilizzare un linguaggio più consono da parte di un uomo che è stato Presidente... Cortesia per cortesia. Rispondendo a un altro quesito e rivolgendosi a me personalmente ha violato il regolamento. Mi attribuisce la volontà di avergli attribuito un appellativo su qualità temperamentali e caratteriali suoi personali che invece esulano da quello che è un giudizio politico che è rivendico di vigliaccheria del governo. Allora, poi sentiamo ovviamente anche Nevi su questo episodio. Chiara, Chiara Geloni, volevo chiederti intanto è evidente che il conflitto è quello che sta succedendo diciamo investe tutti noi la vita di tutti noi e quindi la vita anche in questo caso del Parlamento. Quello che volevo chiederti a parte una riflessione generale è cosa pensi? Perché anche come era successo con il conflitto in Ucraina anche in questo caso ci sono le tifoserie che è una cosa insopportabile, no? le posizioni radicalizzate. Sì, più radicalizzato della guerra non so cosa ci sia quindi ovviamente è ovvio che questa situazione non solo crei la spirale di odio di cui parlava Giovanni Floris ma a cascata e da lontano crei anche un dibattito politico particolarmente aspro. Io dico non demonizziamo il conflitto in Parlamento meno male che in Parlamento succede qualcosa ogni tanto che ha a che fare con la realtà del mondo e che ancora capita che in Parlamento si discuta di qualcosa che non sia magari ecco qualche futilità o qualche tecnicalità parlamentare. Il tema di ieri era un tema vero su cui ci sono divisioni vere su cui Conte ha una posizione legittima che si può anche non condividere che peraltro è coerente con quella che sta tenendo da due anni sul conflitto in Ucraina. Ricordiamolo, cioè sono contrari in momento in sequestria se l'è contrario all'invio di armi a sostegno diciamo pro Kiev che riguarda le armi diciamo che nel caso di Israele il tema dell'invio di armi non è negli stessi termini perché Israele non ha bisogno delle armi italiane diciamoci la verità anche gli Stati Uniti che sono la sponda di Israele anche improprio diciamo è un paese molto dotato di armi ma adesso io dico questo il termine molto forte offensivo al quale Tajani ha risposto legittimamente forzando un po' il regolamento del question time che prevede una serie di quesiti serrati uno dopo l'altro il termine codardo mi pare che si capisse anche bene dal video Conte l'ha usato in relazione alla discussa scelta del governo italiano di astenersi in sede ONU sulla risoluzione che chiedeva il cessato il fuoco una risoluzione che è stata votata da mezza Europa da grandi paesi come la Francia e la Spagna e in questo senso Conte dà un giudizio politico è vero su quella stensione è vero che quella stensione non conteneva che quella risoluzione non conteneva un'esplicita condanna degli attentati di Hamas che era però è stata già approvata in altri documenti dell'O voglio dire una cosa adesso vado da Nevi e poi vado da Claudia Conte perché poi non si è limitato a dire questo no Conte ieri noi abbiamo fatto vedere diciamo un estratto del momento di maggior polemica ma Conte sta portando avanti una strategia evidentemente per diventare un po' il leader della parte pacifista della sinistra che è legittimo è legittimo il problema è che deve farlo senza offendere chi invece sta lavorando indefessamente soprattutto tagliani ma tutto il governo e la melone in testa per costruire invece con la diplomazia punti tra Israele e chiaramente i palestinesi il mondo arabo in generale chi si è schierato a proposito di quella risoluzione dalla parte degli Stati Uniti in America perché anche gli Stati Uniti in America si sono astenuti sulla risoluzione c'è stato un dibattito avevamo insistito molto nel inserire la condanna per l'attentato terroristico e quella sì è stata una codardia non mettere quel riferimento alla condanna di un atto terroristico perché da tutti unanimemente è definito come un atto terroristico e anche dall'ONU era già stato definito appunto quindi è stata una scelta davvero incomprensibile sulla base dalla quale come annunciato il governo italiano si è astenuto insieme a Germania insieme alla Gran Bretagna insieme agli Stati Uniti quindi io penso che Conte fa propaganda e quindi ci sta ma insomma poi Tagliani sa non è uno che passa la giornata così tranquillamente perché due guerre sono due guerre ci vorrebbe anche un po' di rispetto per chi lavora anche a 24 ha fatto due guerre non vorrei citare un film che al botteghino sta andando è nervoso perché ha fatto due guerre adesso tengo diciamo in memoria un'altra domanda che volevo farvi perché qualcuno citava forse di tu Chiara l'Europa prima adesso diciamo ce la teniamo per dopo questa domanda volevo solo aggiungere una cosa ha detto una imprecisione molto grave soprattutto per chi ha fatto il primo ministro cioè lui ha detto adesso dovete smetterla di vendere armi a Israele ecco primo le armi a Israele il governo italiano non le vende da almeno dal 7 di ottobre c'è un punto invece che il governo italiano ha storicamente venduto armi a Israele e guarda caso il picco più importante di vendite c'è stato quando c'è il governo durante il governo è stato il picco più alto diciamo delle vendite di armi a Israele ecco quindi prima di parlare bisognerebbe pure avere un po' di pudore ma quindi ha fatto bene secondo lei no? ha fatto bene secondo lei no ha fatto molto male a dire quella cosa che è un'implicazione quando era premier dice ha fatto bene a vendere armi è un'amica una critica adesso io stavo dicendo un'altra cosa nel senso per noi non è reato vendere armi a Israele ci mancherebbe altro però ecco che ci venga a fare la morale come spesso gli accade su questioni che poi purtroppo alla prova dei fatti si dimostrano solo ed esclusivamente propaganda becera politica per speculare qualche decimale e magari spiazzare il PD rispetto a una leadership che riguarda sia all'interno dell'opposizione allora Claudio Conte intanto poco fa c'è in corso la scena di gala con la comunità con la comunità di business come si dice tra Stati Uniti e Cina con il presidente cinese Xi Jinping che ha detto la Cina non intende entrare in guerra con nessuno si impegna sullo sviluppo pacifico per costruire una comunità con un futuro condiviso per l'umanità la pace l'amicizia e l'armonia sono valori radicati nella civiltà cinese e insomma voglio dire di questi tempi è una dichiarazione che fa bene al cuore mettiamola così Claudio Conte volevi riprendere un po' quello che diceva Giovanni Floris all'inizio e chiederti la rappresaglia israeliana con l'obiettivo di sradicare Hamas questo è stato detto ammesso che poi l'obiettivo finale insomma possa essere centrato rischia di essere controproducente per la stessa Israele? Sicuramente quello che colpisce adesso è questa anche diffondersi dell'antisemitismo un antisemitismo che da certa parte di sinistra viene anche considerato democratico quando sappiamo che invece si misura anche con le 3D di Sharansky la delegittimazione la demonizzazione e il doppio standard Israele è vista come imperialismo come capitalismo e la Palestina come vittima sacrificale ora dobbiamo ricordarci che l'attentato è partito da Hamas Hamas non rappresenta tutta la Palestina Hamas rappresenta il terrorismo Abu Mazen è sicuramente un leader debole che non non è stato in grado in questi 30 anni di essere un'alternativa ad Hamas in grado di difendere il proprio popolo quello qui bisognerebbe arrivare si parla già di un dopo Hamas il problema oggi è distruggere Hamas e vediamo quanto sia difficile perché c'è l'Iran c'è l'Arabia Saudita che non si nascondono più ormai ma sono i veri responsabili sono quelli che sono dietro ad Hamas sono quelli che nascondono anche nei loro paesi i capi di Hamas che non sono certamente a Gaza negli ospedali in Gaza negli ospedali ci sono i militari che fanno scudo umano con i civili con i bambini Israele sta cercando ovviamente anche di portare aiuti umanitari non si vede questo lato però sono state inviate incubatrici per i neonati negli ospedali che erano state consegnate incubatrici diciamo ed aiuti sanitari all'ospedale non ne parla nessuno di questo si vedono soltanto insomma scene di bombardamenti è normale siamo in guerra Hamas ha fatto invece quegli abomini quei crimini contro l'umanità violando le convenzioni internazionali la convenzione di Ginevra decapitando bambini non ce ne dobbiamo dimenticare se lasciamo Hamas così com'è continueranno questi crimini contro l'umanità come è già successo tra l'altro posso no volevo tornare da Giovanni Floris per chiedere a lui visto che Claudio Aconte diciamo in qualche modo ci ha proiettato anche verso il futuro è molto difficile oggi allo stato dell'arte immaginare uno scenario futuro quale scenario futuro si è ripetuto fino alla noia due popoli due stati quello che volevo chiederti insomma è questo perché secondo molti l'unica soluzione se Israele come ha fatto sapere manterrà diciamo nella striscia di Gaza un controllo relativo alla sicurezza l'unica possibilità è che in una prima fase lo dico così forse ci sia una forza multinazionale rappresentata anche da alcuni dei paesi arabi che per esempio in questa fase stanno mediando per gli ostaggi per arrivare poi a uno status diciamo palestinese diverso non so se con l'autorità nazionale palestinese perché poi anche la galassia palestinese è molto complessa tu che ti sei fatto una qualche idea sul futuro io penso che il futuro sia nelle mani di chi agisce oggi io penso che sia difficile per un qualsiasi stato arabo o dell'area entrare a Gaza dopo quello che sta succedendo con il diciamo con il via libera o l'accordo di Israele penso che sia fondamentalmente impossibile per l'Egitto per la Giordania prendere Gaza così come la stiamo vedendo penso che invece essendo Israele l'unica democrazia dell'area penso che dentro Israele gli israeliani possano dal mio punto di vista liberarsi di Netanyahu e cercare una politica che metta già gestendo quello che sta succedendo metta già un primo passo verso il futuro io temo che questa vedete noi la affrontiamo sempre in chiave di valori questa guerra probabilmente è il momento di iniziare a valutarla con l'occhio della convenienza e della strategia la mia idea è che Israele stia facendo del male a se stessa oltre che ai civili palestinesi cioè la mia idea è che si stia mettendo in un angolo di conflitto in cui addirittura gli Stati Uniti stanno prendendo un po' di distanze allora questo dal mio punto di vista non è la conseguenza di una scelta valoriale ma di una precisa scelta politica di un capo di governo che è fondamentalmente bruciato ormai cioè sappiamo tutti che Netanyahu dovrà lasciare il posto forse addirittura finirà in prigione perché vi ricordate il Netanyahu di prima di questi scontri in cui situazione si trovava allora probabilmente Netanyahu responsabile della mancata sicurezza del 7 ottobre e i capi militari responsabili della mancata sicurezza del 7 ottobre risponderanno dopo una guerra che stanno portando avanti loro in una chiave molto più dura di quella che noi ora immaginiamo allora se la chiave è muoia sanzione con tutti i filistei non va bene perché compromette anche lo sviluppo futuro l'uscita da una situazione tragica quale paese arabo può prendere in gestione Gaza dopo che Gaza è stata ridotta così serve un cambio dal mio punto di vista essendo Israele l'unica democrazia dell'area quelli uguali a noi serve che gli israeliani facciano cambiare la linea di Netanyahu chiaro un flash a Claudia Conte poi volevo sentire chi era il giorno che volevi dire tutto questo mi riporta alla mente anche quanto successe nello Yom Kippur con Golda Meier e soprattutto la frase che lei disse noi forse un giorno vi perdoneremo per aver ucciso i nostri figli ma non vi perdoneremo mai per averci costretto ad uccidere i vostri ed è quello che ha fatto Amas adesso e questa è una reazione per difendere i valori democratici di Israele e non solo di Israele anche i nostri Chiara che cosa pensi del futuro appunto cercando di proiettarci un po' oltre gli avvenimenti tragici diciamo di queste settimane di queste ore penso che l'odio semina odio e che con tutte le buone tra virgolette ragioni che possono esserci per entrare armi alla mano in un ospedale al quale hai tolto la corrente e l'acqua da giorni i figli di quelli che oggi muoiono odieranno quelli che hanno ucciso vale da tutte e due le parti ovviamente quindi sarà molto difficile io spero che abbia ragione Giovanni Floris ma sarà molto difficile che le due parti da sole riescano a uscire da questa speranza e credi un po' a quello che diceva Giovanni Floris un po' perché c'è questa percezione rispetto a Netanyahu muoia Sansone con tutti i filistei Netanyahu era diciamo i telegiornali prima del 7 ottobre parlavano tutti i giorni le grandi manifestazioni in Israele no? spaccato di manifestazioni contro Netanyahu e delle sue difficoltà di restare al governo e della sua perdita di credibilità questa è una tragedia perché per finire una guerra c'è bisogno di politica e ci sarebbe bisogno di interlocutori che potessero sedersi a un tavolo noi abbiamo tra le tante tragedie di quell'area un governo israeliano che forse non è mai stato così delegittimato e che tutti dicono se non ci fosse la guerra il minuto dopo che non ci sarà più la guerra Netanyahu deve andare via anche dentro Israele voglio dire lo dicono molto anche più che fuori e dall'altra parte c'è come lo accennavamo già un'autorità nazionale palestinese che negli anni ha perso ogni autorità ogni legittimità una leadership spossata anche da una ragione anagrafica come quella di Abu Mazen che ha 88 anni da problemi di corruzione da problemi di mancanza di credibilità io credo che per quanto Hamas possa essere decapitata nella striscia primo i capi di Hamas non vivono nella striscia di fuori in altri paesi in Cisgiordania c'è un radicamento di Hamas che crescerà in questa vicenda quindi il problema sarà molto serio anche perché sarà difficile anche per gli Stati Uniti auspicabilmente la Cina le eventuali potenze che vorranno aiutare speriamo anche l'Unione Europea il processo di pace avranno difficoltà a trovare degli interlocutori credibili sul campo e voglio diciamo andiamo a chiudere questa parte poi la riprendiamo Nevi in una battuta perché il ministro Tagliani ha più volte ripetuto che anche secondo lui diciamo secondo il nostro governo la soluzione diciamo provvisore sia appunto di una forza multinazionale che prende in carico almeno in una prima fase post guerra la striscia di Gaza e questa è la strada percorribile diciamo ancora è troppo presto per parlarne io ho la sensazione che ancora purtroppo quando appunto ci sono le armi in campo sia difficile fare previsioni però certamente a mio avviso se vogliamo trovare una via d'uscita alla fine penso che sarà quella la via d'uscita possibile però ecco oggettivamente se ci riflettiamo bene se diciamo ci depuriamo di quelle che sono le motività che ci colpisce vedendo quelle immagini purtroppo Israele non ha alternative a cercare in tutti i modi di sradicare Hamas perché? perché lo hanno già provato sulla loro pelle cioè gli israeliani hanno liberato la striscia di Gaza la striscia di Gaza è stata trasformata in una base militare dentro gli ospedali facendosi scudo dei civili per attaccare distruggere Israele quindi è evidente che insomma un paese ha diritto a esistere e a difendersi e io penso che non ci sia sì anche la Palestina ha diritto a vivere la striscia di Gaza è una prigione a cielo aperto da anni ma certo è anche una base militare è una base militare posso aggiungere una cosa sono molto d'accordo devo andare in pubblicità sono fresh proprio perché Hamas nella striscia di Gaza insegna ai bambini l'odio verso Israele a distruggere Israele ma lo imparano da soli quindi è nell'interesse dei palestinesi avere un'autorità credibile in grado di difendere il proprio popolo che non può essere amato suoniamo un nome su questa parte adesso dopo la pubblicità vi porto a questioni diciamo domestiche che sono molto importanti anche queste la guerra certo è un'altra cosa in modo che affrontiamo un po' questa grande polemica sullo sciopero di domani però voglio ripartire dopo la pubblicità raccontandovi una cosa sapete ieri c'è stato il dato sull'inflazione confortante inflazione a ottobre che è scesa di gran lunga anche se insomma il carrello della spesa continua a pesare sulle tasche degli italiani la commissione europea ci ha detto che quest'anno insomma lima un po' la nostra crescita il nostro PIL andrà meglio il prossimo anno noi vogliamo portarvi dopo la pubblicità invece a altre questioni che riguardano gli extra profitti delle banche i tassi la stretta sul credito se dovessi riassumere l'unica cosa che funziona è la fabbrica dei soldi lo vediamo dopo con Marco Fratini sicuramente le banche hanno fatto centro i 43 miliardi di euro di profitti per il sistema i numeri sono della Fabi sembrano piovuti dal cielo il merito o la colpa dipende da che parte ci si trova è del rialzo dei tassi è così che gli istituti hanno incassato senza muovere un dito gli extra ma hanno snobbato negato la famigerata tassa al governo tutte grandi e piccole compreso il monte dei paschi partecipato dallo Stato eppure sintonizzato con la maggioranza quella bancaria però la vera grande manovra finanziaria non l'ha realizzata il governo ma il sistema creditizio una manovra da 43 miliardi di extra che finiscono nel rafforzamento patrimoniale degli istituti e non nella tassa era un'opzione prevista e si vedrà se l'effetto sarà una migliore gestione del rischio e di conseguenza un aumento del credito a imprese e famiglie sì perché i dati della Banca d'Italia mentre il presidente di Confindustria Bonomi lamenta la mancanza di strategia dell'esecutivo Meloni sulla crescita e l'ufficio parlamentare di bilancio in sostanza boccia la manovra dicono che i prestiti al settore privato in un anno sono diminuiti ad aumentare a dismisura oltre il 18% è stata la raccolta obbligazionaria e questo la dice lunga sul rialzo dei rendimenti una tendenza che ha reso facile anche il marketing del governo sulla vendita a tratti esclusiva di titoli di Stato ai piccoli risparmiatori le banche obiettivamente piazzano collocano alla fine guadagnano su tutto e crescono almeno loro e lo hanno fatto così tanto che la trattativa sul contratto nazionale dei bancari la richiesta di 435 euro in più al mese sembra indirittura d'arrivo qualcosa di molto simile a un'equa ripartizione degli utili che farà felice un settore con oltre 260.000 ambiti e proverbiali posti di lavoro senza scomodare temi più generali come il salario minimo e il reddito di cittadinanza è la prova della forza di una delle poche reali industrie rimaste nel paese la fabbrica dei soldi sarà di venerdì e anche 17 la severa Moody's deciderà se l'Italia debitrice di mezzo mondo sta ancora tra i buoni o no immaginare un declassamento nel girone spazzatura e difficile di paura instabilità e brutti pensieri l'occidente è già pieno e per la società americanissima del rating considerati i suoi azionisti da Warren Buffett a BlackRock cioè la crema dei fondi mondiali il nostro paese non può essere un bersaglio anche se a Robin Hood non crede più in nessuno allora riparto a Giovanni Floris cosa pensi di questa legge di bilancio e cosa pensi di questa polemica al calor bianco come dicevamo sullo sciopero beh siamo tornati in pieno negli anni 70 l'inflazione le tasse sulla casa lo scontro col sindacato penso che ci sia un aspetto tecnico appunto la valutazione della commissione garanzia ma un effetto politico voluto da Salvini che secondo me non conviene né al paese né al governo perché avremo metà delle ore di sciopero probabilmente col doppio degli aderenti perché diventa uno sciopero talmente simbolico che immagino domani avremo molti nel settore soprattutto nel settore pubblico che parteciperanno in realtà temo che questo approccio abbia riportato l'Italia a una considerazione delle relazioni industriali appunto da anni 70 da inizio anni 80 cioè il raffreddamento del conflitto è la prima regola che impara chi anzi più che impara ha già imparato che utilizza chi va a governare no perché il conflitto fa male al paese fa male alle imprese fa male ai trasporti quindi diciamo si gestisce la conflittualità sindacale si cerca di raffreddare si porta a mediazione si porta a compromesso la commissione di garanzia degli scioperi fu creata e presieduta per la prima volta da Gino Giugni che è l'uomo che insieme a Ciampi Luigi Abete crearono i percorsi per la composizione del conflitto cioè andare a cercare il conflitto col sindacato ricreando una una soggettività diciamo diventa di nuovo un soggetto politico importante il sindacato in un momento in cui l'Italia ha una bassa crescita la più bassa d'Europa prevista nel momento in cui ora diceva giustamente il servizio è difficile immaginare che ci declassino a titoli spazzatura ma stiamo parlando di essere declassati a titoli spazzatura cioè stiamo parlando del rischio di essere spazzatura cioè che chi presta i soldi a noi spazzatura vuol dire che chi ci presta i soldi dà per scontato che non glieli ridiamo allora se questo è il momento cercare il conflitto col sindacato o non anzi più che cercare facciamo conto che il conflitto parta dal sindacato l'idea di non disinnescarlo ma di anzi di cavalcarlo è un'idea totalmente crotoproducente come la questione delle banche allora c'è un esponente importante di Forza Italia in studio se non era per Forza Italia noi stavamo con quella tassa preannunciata da Giorgia Meloni togliamo i profitti ingiusti che naturalmente non solo non è stata fatta perché non poteva essere fatta ma ci avrebbe creato così tanti problemi sui mercati andare a prendere i soldi alle banche senza avvertirle dicendoglielo in televisione quando tutta Europa l'ha fatta quella tassa trattando telefonando guardate avete guadagnato veramente troppo questa diciamo con la moral suasion l'ha fatta con la moral suasion chiamiamola così come col sindacato cioè siamo tornati a quell'idea dello scontro portato da una destra radicale e un'idea dello scontro che l'Italia aveva archiviato l'aveva archiviata perché non funzionava perché non risolveva i problemi adesso siamo ritornati a uno sciopero generale quanti ne sono passati negli ultimi dieci anni di quante persone se ne erano accorti adesso è diventato il titolo di prima pagina la CGL contro il governo sembrano gli anni 70 sì sì da tempo allora facciamo così velocemente vado a parlo sotto corona poi voglio sentire gli altri ospiti su questo tema poi parliamo anche di libri buongiorno buongiorno abbiamo ancora delle perturbazioni ma ancora una volta passeranno a nord delle Alpi quindi non cambiano il tempo sull'Italia qualcosa cambierà sull'Italia e vediamo fra un attimo cosa per oggi insomma di nuvole ce ne sono poche le piogge vediamo la previsione per la giornata di oggi qualche debole pioggia in Toscana sul medio basso Tirreno ma tutto sommato non c'è non c'è moltissimo c'è qualche precipitazione al di là delle zone alpine vediamo la giornata di domani domani abbiamo due informazioni una è quella che le perturbazioni quelle forti passano al di là delle Alpi e non le varcano quindi fenomeni intensi si spostano dalla Francia alla Svizzera poi verso verso l'Austria queste piogge non intense al centro sud sono però portate da un flusso lo ho segnato con questa freccia che arriva dalla penisola Balcane con una bassa pressione da lì affluisce dell'aria più fredda ed eccolo il cambiamento ma non tanto nel tempo perché se andiamo alla giornata di sabato di piogge sostanzialmente non ce ne sono ma complice questo ingresso di area più fredda soprattutto sul medio adriatico e al sud e il cielo sereno avremo per esempio delle minime piuttosto basse a confronto con quelle molto alte che avevamo nei giorni scorsi in Toscana c'è un proverbio che dice quando nulla è quando frulla cioè o tanto o troppo poco e il tempo e il clima stanno seguendo questa strada grazie subito in pubblicità ci vediamo tra poco Allora lo chiedo a Nevi vi chiedo interventi sintetici perché dobbiamo parlare anche di un'altra cosa Nevi è vero che Nevi non è né del partito di Salvini né del partito di Giorgia Meloni ma come diceva anche ci ricordava Giovanni Floris ma in questa fase così complicata per l'Italia per il mondo che senso ha inasprire serve forse Italia servirà anche forse Italia questo lo faccio dire a lei ma a che serve inasprire i toni ma no guardi allora io penso sinceramente che si può sempre migliorare e noi siamo portatori di un'istanza di grande attenzione e di grande anche dialogo nel senso che noi dobbiamo mettere in campo un di più di attenzione sui temi sociali perché la condizione del paese in questo momento lo richiede ma oggettivamente insomma se siamo un minimo obiettivi noi dobbiamo riconoscere uno che non è che qui anche a Floris amichevolmente lo dico il sindacato no una parte del sindacato italiano diciamo due sui tre beh sì sì vabbè poi c'è anche l'UGL che è il sindacato diciamo storicamente di destra diciamo due su quattro questo è un fatto importante che va considerato che è un fatto nuovo anche rispetto al al passato abbiamo un atteggiamento della CISL che secondo me è un atteggiamento più dialogante responsabile dice le cose che non gli vanno ma insomma è evidente a tutti che questo è uno sciopero politico io ho la sensazione che la CGL stia supplendo ha una totale mancanza mi ha dato un formidabile assist per chiedere a Chiara Geloni ma Landini sta facendo qualcuno l'ha scritto oggi un OPA sulla sinistra ma sono dieci anni che lo scrivono sono dieci anni che scrivono adesso la fa poi le cose si ripetono in questo paese adesso Landini quando finisce di fare il leader sindacale farà un po' quello che vuole come tutti i suoi predecessori questo mi sembra in questo momento credo che stia facendo il capo di un sindacato diciamo adesso ci sono tanti altri sindacati sì ok ma esiste anche una dimensione del sindacato CGL e Will sono una bella porzione del mondo del lavoro non facciamo paragoni diciamo impropri direi che la CISL è una parte importante sì sì ma non sto sminuendo la CISL una volta si diceva la triplice una volta c'era la triplice adesso non c'è più è già molti anni che qualche volta capi sui contratti da rinnovare ma no la cosa che mi fa facciamo finire no io penso che tutti gli scioperi sono politici e nessuno sciopero è politico cioè il sindacato indice lo sciopero perché ritiene che i provvedimenti della manovra vadano conto gli interessi dei lavoratori dei propri iscritti è politica questa forse è una valutazione politica ma è esattamente il mestiere del sindacato ci sono anche dei fondamenti diciamo in questa affermazione ci sono settori che vengono finanziati meno e sono a rischio di non copertura come la sanità c'è un problema di salari su cui la manovra non fa e non dice niente c'è un problema sì di contratti da rinnovare su cui il governo non sta intervendendo riusciamo in quei minuti ci sono rimasti aprire una nuova discussione su tutta la manovra ovviamente Nevi la difende con le unghie e con i denti ma no ma non è che la difendo cioè sono due dati questa manovra la manovra da 25 miliardi va bene noi ne mettiamo 10 per diminuire per continuare a tenere basso la tassa sul lavoro il cuneo fiscale che va tutta intera nelle tasche dei lavoratori italiani c'erano già la seconda cosa facciamo 5 miliardi di minori tasse sull'IRPEF la terza cosa per rimanere sulle macro questioni il rinnovo dei contratti dei lavoratori ma sono 7 miliardi e tocca Giorgetti adesso sinceramente rispetto alle critiche di una nuova che non pensa alla crescita degli investimenti ha detto è espansiva solo per i redditi medio basso ha detto che forse la crescita dovrà essere rivista l'altro giorno posso dire però che io penso che un partito come Forza Italia guardi veramente glielo dico in amicizia dovrebbe preoccuparsi di questa spasmodica ricerca del nemico da parte del governo ma non è nemico ma il contrario è il contrario che difende questa cosa assurda che sta facendo i sindacati devono rispettare il voto non è stato toccato il punto serio mettendo a disagio anche Giorgia Meloni come è stato detto ma hanno un atteggiamento che è pregiudiziale ma non è una cosa che capiscono tutti insomma vedremo domani 20 miliardi sui lavoratori poi bisogna rispondere da un'altra cosa che riguarda molto da vicino Giorgia Meloni che volevi dire aggiungere una cosa i sindacati devono rispettare anche le decisioni c'è una commissione che è preposta a regolare il diritto di sciopero che ha preso una decisione che non era mai stata presa in questi termini c'è una commissione preposta garante che va rispettare il garante nominato dai presidenti delle camere entrambi di centrodestra allora scusate non vi voglio tacitare assolutamente lungi da me voglio farvi vedere ieri è stata inaugurata a Roma una grande mostra credo la prima del genere in Italia dedicata a Tolkien che è un autore molto ma molto amato da Giorgia Meloni e qualcuno dice un autore di cui si è impossessata la destra italiana vediamo una mostra a lunga attesa quella su Tolkien uomo professore autore inaugurata a Roma alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna una mostra a 50 anni tra scomparsa dell'autore inglese celebre e soprattutto per la sua opera più conosciuta Il Signore degli Anelli un evento carico anche di significato politico fortemente evoluto dal ministro San Giuliano il suo successo ci dà la misura e la consistenza di quest'autore perché è un successo universale vede in quante lingue è stato tradotto Tolkien credo che è difficile trovare autori così tradotti io punterei a guardare quei valori eterni che Tolkien prova a trasmetterci che sono i valori della comunità i valori della solidarietà la difesa della tradizione e quindi dell'identità che riflette una certa tradizione e poi mi consenta la cosa più importante la difesa dell'umano è la prima esposizione di queste dimensioni mai dedicata in Italia allo scrittore inglese che se negli anni è stato letto e tradotto in tutto il mondo è diventato anche scrittore amato dal movimento hippie della woodstock degli anni 70 così come da una cultura di destra che di Tolkien ha fatto un autore di riferimento si celebra un autore che è stato capace di parlare a milioni di lettori oggi insegna la grandezza dei grandi timi Tolkien non fa altro che rielaborare i grandi timi e riportarli in un linguaggio moderno c'è qualcuno di una parte politica che l'ho amato lo ha letto ne ha fatto come dire il suo autore preferito ma questo non può assolutamente precludere chi era Tolkien uno che ha venduto 250 milioni di libri al mondo non è una mostra politica tutt'altro è una mostra che rifà il percorso di Tolkien leggendo narrando alcuni aspetti che nessuno aveva mai come dire approfondito ma la politica c'era come alla mostra su Tolkien patrocinata dal ministero della cultura all'inaugurazione era presente il sottosegretario la presidenza del consiglio Alfredo Mantovano e la presidente del consiglio Giorgia Meloni ho letto Tolkien a dieci anni per colpa di mio padre colpa ovviamente in senso ironico perché era comunque un grande appassionato attraverso le illustrazioni e non soltanto le suggestioni letterarie di Tolkien fa capire quello che Tolkien ha generato col signore Ianelli è un creatore di mondi e di immaginario che qui nella mostra ritroverete a me piaceva molto quando studiavo la letteratura anche capire cosa ci fosse nella vita dell'autore ti aiuta anche a leggere meglio le opere e questa è una mostra che da questo punto di vista fa un salto di qualità allora non posso che ripartire da Giovanni Floris perché lui ha pubblicato la sua ultima diciamo l'ultimo lavoro su carta e questo l'essenziale appunti di un lettore avventuroso che è un libro sui libri allora parto Giovanni da quello che sentivamo prima ma sono i valori di Tolkien valori da scrivere alla destra c'è la destra che si ritrova nei valori di Tolkien come la vedi tu questa faccenda? allora nell'essenziale Tolkien non c'è ma non non per una scelta politica ho visto i film e qualcuno direbbe non l'ha messo perché è di destra i film sono bellissimi e li ho visti 80 volte quindi sono un fan ma come diceva Woody Allen noi arriveremo al libro estratto dal film ecco io parto dal film e no credo che sia un grosso malinteso cioè da quello che ho capito c'era una battaglia all'interno dell'MSI tra chi amava Tolkien e chi lo disprezzava e forse quelli che hanno vinto sono quelli che l'amavano ma io non credo che Tolkien sia di destra c'è un bellissimo articolo di oggi di Flavia Perina sulla stampa che spiega come Tolkien si è trovato ad essere un mito di Giorgia Meloni ma senza averne alcuna responsabilità credo sono dei temi di il locale che vince sul generale potrebbero essere benissimo delle categorie di sinistra radicale ma d'altronde all'epoca quando amavano Tolkien gli attuali governanti erano destra radicale sappiamo che destra radicale e sinistra radicale alla fine su molti temi potevano andare anche d'accordo come faranno Alemanno e Rizzo prossimamente sulla guerra e l'essenziale è un percorso tra i libri che forse non solo a me ma hanno formato una generazione con tutti i decadenti quando eravamo a scuola la Mitell'Europa quando iniziavamo l'università car popper la società aperta quando facevo l'università ecco probabilmente Tolkien è più apprezzabile alla luce questo cos'è il festeggiamento di Tolkien con la con la croce celtica ecco non so se Tolkien sarebbe felice di essere a lei ecco qui è Giorgia Meloni dai per favore abbiamo problemi serissimi allora è una mostra comunque insomma molto completa mettiamola così Nevi lei l'ha letto lo segue Tolkien le piace? ma sì diciamo che anche io penso come Floris da questo punto di vista cioè appropriarsi di autori e farli diventare diciamo icona di una parte politica è una caricatura ma non è un'appropriazione però io ho letto qualche esponente di centrodestra adesso purtroppo non mi ricordo oppure ho una buona memoria che ha detto sì mi piace Tolkien ma io leggo anche zero calcare no come dire i gusti sono gusti appunto quindi insomma l'unico aspetto positivo di tutto questo è che la politica sostenga la cultura esatto quindi che sia stata realizzata una mostra così importante che abbia così attenzione sotto tutti i punti di vista mediatico anche per la presenza della premier Meloni del sottosegretario Mantovano di La Russa di tanti esponenti del governo quindi in questo ha avuto un grande successo potremmo fare una mostra per ogni autore preferito da ognuna di queste cariche di cui ha parlato non basterebbe non è una questione di autore preferito è un autore che insomma è il terzo libro più letto al mondo dopo la Bibbia e il Corano tradotto in tutte le lingue quindi non ci vedo nulla di male che abbia questa grande attenzione anche in Italia io vado alla mostra e poi me lo leggo pure è una bella iniziativa speriamo piacciono anche autori bellissimi ai presidenti Camera e Senato così avremo altre mostre esatto io se divento presidente del Consiglio esigo una mostra su Jane Austen ah vedi adesso poi è bello perché emergono le passioni e le predilezioni letterarie di tutti se è finito il giro dei politici si passa ai conduttori io vorrei Musil ok ha giudicato va bene va bene insomma lo diceva lo stesso Giovanni Flori se non basterebbero tutti gli spazi culturali italiani se dobbiamo accontentare tutti saluto Davide ciao Davide buongiorno ciao ciao io sono fermo a Ivanzina quindi non posso in qualche modo accontentare le velleità culturali allora scherzi a parte sponso la tesi Parenzo sì ecco allora noi in realtà non ci occuperemo dei 250 mila euro che sono stati spesi l'abbiamo parlato anche ieri per la realizzazione di questa mostra che vi abbiamo fatto vedere ma torniamo sulla delle polemiche di questi giorni con un protagonista assoluto che è qua in studio per Paolo Bombardieri della Will perché perché buongiorno intanto perché come sapete insomma questa polemica tra il governo e i sindacati hanno in realtà lasciato degli stasci che è incredibile Bombardieri ha parlato di squadrismo istituzionale da parte di Salvini ed è qui e ci spiegherà qual è l'effetto poi qual è il senso di questa dello sciopero che ci sarà ridotto per volontà di Salvini e cercheremo di capire che cosa lascia questo scontro poi andremo davanti alla Camera dove è in corso una manifestazione a sostegno del governo noi in genere siamo abituati a seguire manifestazioni che in qualche modo contro mettono in discussione e invece qui ci sarà una manifestazione a sostegno del governo sul tema della carne coltivata perché oggi la Camera è un'antica proposta cavallo di battaglia di Fratelli d'Italia no alla carne coltivata oggi si vota la Camera e c'è una manifestazione a sostegno di questo e poi vi porteremo e vi racconteremo qualcosa in più sullo scontro tra Israele e Hamas il leader dell'opposizione Lapid chiede le dimissioni di Netanyahu e ci sono delle operazioni militari anche nel fronte del sud ne parliamo con Bombardieri a punto Luciano Fontana delettore del Corriere Vittorio Feltri Alessandro Cecchi Paone Roberto Arditti e poi ancora Stefania Craxi Antonio Di Bella e Irene Tinagli pochi minuti e siamo qui e ripartiamo con uno dei protagonisti di questi giorni grazie chiedo un flash a Giovanni Floris in chiusura siccome il tuo è un libro sui libri ma come invoglieresti come ingolosire chi non ha grande dimestichezza con i libri ma guarda i libri sono scoprire la vita di altre persone scoprire se persone più intelligenti di noi più preparate o che scrivono meglio di noi hanno capito della vita qualcosa che ci sfugge è un modo per risolvere i problemi un modo per parlare con gli altri e poi sono altri che io nell'essenziale parlo solo dei classici sono dei libri che resistono da secoli che non parlano delle storie che raccontano ma che parlano della giornata di ognuno di noi dei problemi che abbiamo delle riflessioni che facciamo e quindi è un modo di chiedere aiuto un modo di chiedere e ottenere aiuto grazie Giovanni Floris grazie all'onorevole Nevi grazie a Clavia Conte grazie a Chiara Geloni noi siamo qui domani come sempre 9.40 adesso c'è la reghetire grazie a Chiara grazie a Chiara